ciao allora oggi voglio parlare di questo correttore liquido della sien quindi il marchio dell'idol questo è il liquid concealer perfect finish la confezione è un 5,5 ml costa 2,99 euro l'ho segnato il colore che ho io è il 10 medium allora dato che l'ho completamente finito e credo che si veda vi ho fatto lo swatch allora vedete anche i fatti dallo swatch la coprenza che è davvero alta io volevo far vedere il pennellino che è questo allora vedete che ha una coprenza davvero molto alta quindi è perfetta se vogliamo andare a coprire qualche segno e non tanto le imperfezioni ma proprio i segni di scromie cosa che vi devo dire assolutamente è che si fissa immediatamente quindi se vogliamo applicare nei contorni occhi facciamo un occhio e poi lo sfumiamo e poi facciamo l'altro perché se no resta lì allora una volta sfumato e fissato io applico sempre uno stato di cipria ma comunque sia davvero si fissa e resta bello fermo tutto il giorno cosa cosa interessante anche se si fissa non va a finire nelle nelle rughette o nelle segni dell'espressione quindi fantastico io la uso soprattutto in estate l'ho usato perché non vado a truccarmi troppo quindi con lo stato leggero di colore poi vado ad applicare questo per coprire gli occhiaie e ho il risultato perfetto altra cosa che vi devo dire è che però mi è durato poco c'è poco come tempo perché questo mi è durato 15 giorni va bene che l'applico tutti i giorni va bene che lo vado applicando tutto il contorno occhi e qui e le mie occhiaie sono occhiaie però 15 giorni è vero 2 euro e 99 ma ho trovato correttori più pratici e che costano anche un pochino meno che durano di più tipo quelli dell'essence comunque sia questo non è male soprattutto per l'alta alta coprenza quindi cercate un prodotto nel caso non vi truccate troppo ma volete comunque coprire occhiaie magari qualche segno qualche macchia o qualche brufoletto ed è che è già andato via ma ha lasciato il segno è un buon correttore soprattutto a un prezzo molto accettabile fatemi sapere se per caso avete già provato questo correttore e come siete trovate questo qui non so se l'avevo mostrato prima io come sempre comunque sia spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così avrete avvisato ogni volta che calco un nuovo video alla prossima ciao